Benvenute sul canale Notizia Bomba, Demet Ozemir divorzia dal suo nuovo marito Ogubskan Koch. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale di gossip turco e news sugli attori che noi amiamo in Italia. Oggi abbiamo in serbo una notizia bomba per tutti voi. Il 17 marzo è uscita sui media turchi e tutti i giornali che Demet Ozemir e il suo nuovo marito, l'attore Ogubskan Koch, divorziano. Ma prima di farvi scoprire il motivo e il tutto nei dettagli, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per poter rimanere sempre aggiornati e in più per darmi un bel supporto ed avere così la possibilità di continuare a creare fantastici contenuti per voi. Demet Ozemir e l'attore, cantante e produttore Ogubskan Koch, che si sono sposati ad ottobre del 2022 e per la verità è stato anche il matrimonio dell'anno, stanno passando un brutto periodo. Nonostante sia stato un matrimonio da favola, per il quale hanno speso una somma veramente importante e lo hanno reso pubblico e condiviso in ogni attimo di quella giornata, trovate infatti diversi video sul mio canale, dove la sposa ha indossato non uno ma ben tre abiti da favola, uno più bello dell'altro. E nonostante dimostrassero di avere un rapporto solido ed amorevole, il fatto che Demet lo amasse più di quanto lui amasse lei, almeno da ciò che appariva al di fuori, pare che Demet abbia abbandonato la casa con cui viveva insieme al suo nuovo marito, secondo una giornalista di spettacolo che è sempre molto aggiornato in queste news. Ma quando è iniziato tutto? Tutto è iniziato precisamente il giorno del compleanno di Demet, il 26 febbraio, in occasione del quale alcuni amici gli hanno organizzato una festicciola per poter festeggiare tutti insieme, non in grande, a causa del periodo terribile che sta attraversando la Turchia, per via della catastrofe che l'ha colpita. Questa festicciola è stata organizzata presso l'abitazione di uno dei suoi amici. In quell'occasione pare che suo marito, August Kahn, l'abbia trattata in malo modo. Non si sa bene cosa gli abbia detto, ma sembra che avesse avuto un atteggiamento alquanto fuori luogo ed irrispettoso nei confronti di Demet. Nei dettagli non si sa nulla, ma sappiamo che da quel giorno la nostra bellatrice non ha più voluto rientrare nella casa in cui viveva con suo marito. Tuttavia, August Kahn è rimasto da solo nella loro abitazione, mentre Demet è stata ospitata dal suo amico di sempre. E qualche giorno dopo, vedendo che Demet non tornava, dispiaciuto per come l'aveva trattata, pensò di prendere in mano un po' la situazione, comprandole dei fiori, poi per andare a scusarsi con lei, che in quel momento si trovava proprio sul set della sua nuova serie Adim Farak, Mi chiamo Farak. Demet, di fronte al gesto del marito, si è commossa e lo ha perdonato tornando nella loro casa da coniugi insieme a suo marito. Nonostante ciò, dopo un periodo di tranquillità e amore sereno, tra i due è scoppiata una violenta lite. Questo è un fatto successo ora, molto recentemente, parliamo di circa una settimana fa, e la coppia ha deciso di lasciarsi definitivamente e non abitano più nella stessa casa. Demet, a tal proposito, proprio ieri si è espressa riguardo alla questione, dopo che la notizia è scoppiata su tutti i giornali e non solo, la montandosi delle voci che sono uscite allo scoperto e del fatto che i mass media si preoccupino così tanto della sua vita privata, dichiarando anche, così ha detto, notizie non del tutto vere. L'attrice non ha ammesso né di essersi separata, né il contrario, dimostrando un certo imbarazzo nel parlare della sua vita privata in pubblico, e soprattutto in un momento delicato come questo, in cui la Turchia sta attraversando un periodo alquanto buio e difficile, ma Demet non si riferisce solo a lei, bensì anche alle notizie su altre star dello spettacolo, parla per tutti in generale. Non capisce come, in questa situazione, i giornali possano occuparsi di queste notizie così frivole, quando in primo piano dovrebbe esserci solo il terremoto che ha colpito la sua terra, e in una storia di Instagram, inoltre, aggiunge che la stampa espone notizie sui personaggi dello spettacolo non curandosi della loro veridicità, mettendo queste persone in difficoltà. Fa anche l'esempio di un'altra attrice sposata che si dice che abbia una relazione con il suo regista, la quale anche lei ha espresso lo stesso pensiero di Demet. Inoltre, la nostra attrice ci tiene a sottolineare che non la farà di certo passare liscia a questi giornalisti e che provvederà per via legale, facendo causa così a tutti coloro che infancano la sua immagine e la sua vita con notizie false. Ciò è quanto è stato dichiarato dalla bella Demet Ozemir sul suo profilo social di Instagram. L'attrice non ha nominato suo marito August Khan. L'unica cosa che abbiamo potuto notare è che non ha negato la notizia. A dire il vero, per concludere, vi posso dire che questa notizia non è certa al 100%. Non abbiamo la certezza che si siano lasciati e che vivano in case diverse. Ma comunque, di solito, questi rumors hanno sempre un fondo veritiero. difficilmente scoppia una notizia del genere e poi è una fake news. Ma vi terremo sempre aggiornati e vi faremo avere nuove notizie con certezza appena avremo delle notizie più dettagliate e sicure. Quindi, c'è ancora una piccola speranza per la coppia, come si suol dire. La speranza è l'ultima a morire. Io però credo che non sia così. Ma tutto può succedere, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Oltretutto, alcuni fan hanno dichiarato di volerli vedere di nuovo insieme e riappacificati. Quindi, ciò riporta la notizia bomba che è scoppiata ieri e fa alzare di più la percentuale della veridicità di questa notizia su The Met e Doguscan. Ma non temete, vi darò notizie più sicure appena possibile. Per cui, iscrivetevi al canale per tutte le novità e lasciate un bel like. Inoltre, commentate cosa ne pensate di questa situazione. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie.